Fabio Balasso Fabio Balasso Fabio Balasso Fabio Balasso questa sfida non era poi così impossibile come magari ci si poteva aspettare alla vigilia? Sì, abbiamo espresso un bel gioco per momenti, abbiamo fatto molto bene il secondo set, peccato il primo perché loro ci hanno regalato tanti errori al servizio e noi abbiamo avuto anche tanti contrattacchi che non abbiamo sfruttato, poi logicamente come finora loro, una delle squadre più forti, i giocatori vengono fuori e quando si mettono a battere a fare il loro fanno molto bene, ci hanno messo anche loro in difficoltà, peccato anche che ce li abbiamo giocati per dei momenti alla pari, però è così, noi adesso cercheremo in questa settimana di preparare la partita un po' meglio, guardando gli errori che abbiamo fatto in questa partita e cercare di migliorare su di quello. Può essere un'assurdità che c'era forse più tensione oggi da un punto di vista di squadra rispetto alla gara scorsa o no? Da parte nostra o da parte loro? No, non credo, noi adesso queste partite, sia la partita scorsa come questa, io ho visto il gruppo tranquillo, concentrato, abbiamo fatto un bel lavoro in settimana e non credo, non credo che ci sia stata così quella tensione che stai riferendo, però è chiaro che ci hanno messo in difficoltà per dei momenti e l'abbiamo subito. Oggi dimostrato anche in gappetta nei momenti decisivi di tirare fuori quella zampata che forse ha messo un po' in crisi anche a livello difensivo. Sì, sicuramente, lui oggi ha fatto chiaramente la differenza, ma non solo in attacco, ha difesso dei palloni e ha vattuto molto bene, credo che è stato il miglior giocatore loro, non siamo riusciti a fermarlo forse una sola volta, però lui ha dato un gran contributo alla squadra facendo anche delle difese importanti e complimenti a lui. Secondo me è uno che è meglio lasciare stare e non andare a stuzzicarlo perché più lo fa e gioca meglio, quindi un punto a rivedere per noi. Adesso giorno di Pasqua, un appello ai tifosi per venire alla Chioene Arena per vedere questa gara 4 che è tutta ancora aperta. Sì, sicuramente, secondo me è aperta ancora, sono aperti perché in casa abbiamo dimostrato un bel gioco, oggi abbiamo giocato molto bene, nonostante il risultato, gara 4 sicuramente sarà aperta, noi cercheremo di migliorare un po' il servizio, che in casa di solito vattiamo un po' meglio, invitiamo a tutti, vogliamo vedere un Chioene Arena pieno per cercare di riportare questi playoff a gara 5.